No, guarda, te lo dico in modo mio perché non è facile spiegare questa cosa, mi preme molto la cosa, noi abbiamo delle cose belle, dei momenti belli, delle belle sensazioni, però alla donna servono tre uomini forse, quattro, perché loro vogliono l'uomo carino, l'uomo tenero, l'uomo sincero, l'uomo ironico, l'uomo stabile, è che abbassa una cosa sola, loro guardano molto molto, molto oltre, e quindi ripeto, ogni donna, quando mi vogliono avere quattro uomini, noi forse una bassa, ma loro proprio, non è facile proprio, ecco, loro quando vanno oltre, quindi ripeto, guardano tante cose che noi non siamo guardati, se noi ci accontentiamo, va bene così, se loro invece non hanno molto di più, cioè, lui è poca, cioè, con quattro, assaggiamo, non sono solo, ci sono sempre, è sì, non è così, non è così, non è così, non è così,